Spiegate al Presidente del Consiglio, io ho provato a spiegarlo ma o non capisce o finge di non capire, che c'è una differenza tra immunità e insindacabilità, quando si dice una cosa, quando un parlamentare dice una cosa entra in atto l'insindacabilità, non l'immunità, ma soprattutto spiegategli che noi le immunità e le insindacabilità non le utilizzeremo mai, non ci proteggiamo dietro questi strumenti, sono loro che si proteggono dietro l'immunità parlamentare, per non far andare in galera i senatori che gli reggono la maggioranza, ma addirittura danno l'immunità parlamentare ai consiglieri regionali e ai sindaci con la nuova riforma costituzionale, se poteste chiarire al Presidente del Consiglio questo concetto ve ne sarei grato, io gli chiedo un confronto pubblico sul tema degli sprechi, dei privilegi e delle immunità del suo partito.